Molti aggiornamenti di oggi arrivano dalla direzione di Siversk. Alcuni degli scontri più intensi stanno avvenendo nell'area di Bilorivka. Il punto focale della battaglia è diventata la montagna bianca sulla cava di gesso, dalla quale Bilorivka prende il nome. Le truppe ucraine stazionate sul Terricon godono di un vantaggio tattico sostanziale, in quanto possono esercitare un controllo di fuoco sull'area circostante, complicando significativamente le operazioni russe. Ecco perché le forze russe hanno deciso di sistemare il problema una volta per tutte e lanciato una serie di attacchi per catturare la montagna bianca. La posizione elevata ha permesso agli ucraine di infliggere enormi perdite ai russi, che però non li ha fatti desistere. Il primo passo dell'operazione offensiva è stato lo stabilire il controllo sulle linee alberate di fronte al Terricon. I comandanti russi non hanno però considerato gli ripidi versanti che costituiscono la montagna e che anche se i russi fossero stati in grado di stabilire posizioni sotto di essa, non sarebbero stati in grado di scalarla a causa del fuoco ucraino. Ecco perché sono stati costretti a muoversi lentamente a nord lungo la linea di alberi sotto il costante fuoco dal monte. I russi hanno allocato parecchi veicoli da supporto a fanteria e carri nel tentativo di stabilire un punto d'appoggio. Il loro piano era quello di arrivare fino alle parti inferiori del Terricon, far sbarcare la fanteria mentre i carri fornivano fuoco di supporto e poi ritirarsi. Il primo gruppo d'assalto era composto da 5 BMP2 e un carro. Sono partiti da Zolotarivka e diretti verso Bilorivka. Sfortunatamente per loro, un gruppo da ricognizione dronico ucraino li ha individuati e diretto artiglieri e droni sulla loro posizione. Una volta sotto fuoco pesante, hanno cercato di fuggire ma sono incampati in un campo minato piazzato dai droni ucraini. La colonna è rimasta paralizzata ed esposta a droni e artiglieria. I sopravvissuti sono stati inseguiti ed eliminati. Secondo fonti ucraine, le loro forze sono riuscite a distruggere 5 corazzati, danneggiando un altro e uccidere 42 soldati, essenzialmente eliminando un intero plotone. L'assalto è stato respinto dagli elementi della 54esima brigata ucraina e dalla 118esima di difesa territoriale. Soltanto un carro è riuscito a ripiegare. Questo è stato un indizio importante, almeno nella mente dei comandanti russi, che hanno infatti mandato più carri credendo che avessero più possibilità di sopravvivenza contro artiglieria e droni dei normali corazzati. Non è stato tuttavia così e i veicoli sono rimasti immobilizzati, costringendo gli equipaggi alla fuga e lasciando i carri in armi contro i droni che li hanno distrutti. Vedendo il fallimento del secondo attacco, per il terzo i russi hanno deciso di mandare gli elementi del battaglione penale Stormzy, sperando di sovverchiare gli ucraini con la forza di numeri. Non ha però portato i risultati sperati e solo due assaltatori russi sono sopravvissuti. Un BMP-2 abbandonato è stato distrutto dagli ucraini e ci sarebbero le immagini di numerosi cadaveri di staccamento russo, ma a causa delle regole di YouTube non possiamo mostrarli. A questo punto l'unica soluzione rimasta ai russi è stato al mandare assalti su assalti composti da corazzati trasportanti infanteria, sperando che non venissero individuati e distrutti dagli operatori dronici ucraini. Per aumentare le loro possibilità di successo hanno mandato un quarto assalto, più piccolo dei precedenti, composto da solo due BMP. Questo approccio ha effettivamente funzionato, in quanto sono veicoli più veloci dei carri e la velocità ha permesso loro di fare più strada. Anche se uno dei due è stato distrutto, è stato comunque possibile per loro far sbalcare l'affanteria e stabilire un piccolo punto d'appoggio nel lato est del Terricon. Geolocalizzazioni mostrano truppe russe bersagliate dai droni sui versanti del monte. Queste non sono tuttavia posizioni sostenibili, in quanto si trovano al primo piano, mentre quelle ucraine al secondo. Non portano inoltre benefici tattici, in quanto i russi non possono esercitare controllo sulle vie logistiche ucraine. L'unica loro possibilità è quella di risalire in modo da stabilire posizioni più utili il più presto possibile, perché se dovessero fallire perderebbero la testa di ponte, reddendo vani i sacrifici dei precedenti assalti. Sovverchiare gli ucraine con la pura forza dei numeri inoltre non è facile, in quanto soltanto piccole unità riescono ad avvicinarsi abbastanza. Se siete contro l'invasione dell'Ucraina e volete supportare il nostro lavoro, potete fare acquisti nel nostro negozio ufficiale. Qui potete trovare numerosi prodotti riportanti i simboli ucraini per mostrare il vostro supporto al canale e per l'Ucraina. Potete trovare il link in descrizione. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.